Tutti in poche ore, l'ingaggio del Carpi, l'esordio sicuramente amichevole, che impressioni hai avuto in questi pochi giorni? A che livello è molto alto, la squadra va forte, gli allenamenti sono molto intensi e sono molto contento di essere qua, ho fatto il mio esordio in questa amichevole e so che sarà un anno fantastico perché è un gruppo molto unito, c'è tanto entusiasmo, si è tutti belli uniti e ora quando c'è questa unione sono sicuro che andrà bene quest'anno. Come è maturato il passaggio al Carpi, se te l'aspettavi così rapido in questi ultimi giorni? Sì, me lo aspettavo, era una cosa che ho spinto forte a venire qua, ho bisogno di giocare ed è un gruppo fantastico, quindi non c'è posto migliore. Cosa ti aspetti da questa stagione? A livello individuale di fare il passo in più che mi manca, invece di gruppo di arrivare più in alto possibile, quindi sognare perché sognare è giusto.